In calcio anche due giocatori della Nazionale Italiana Cechi hanno partecipato come istruttori allo stage per giovani portieri che si svolge da 11 anni nell'Alto Sangro. Berard Aurini. Quest'anno abbiamo portato due attretti della Nazionale Non Vedenti, Poliobbo e Francesco Cavallotto, per aiutare a empatizzare, a migliorare l'empatia nei nostri ragazzi. Questa è la prima novità dell'undicesima edizione dello stage riservato ai portieri che si svolge sui campi di Alfedena, Villa Scontrone e Cerro al Volturno. L'obiettivo è quello di aiutare i futuri numeri uno a migliorare dal punto di vista tecnico, ma anche da quello umano, con l'aiuto di preparatori atletici, psicologi e medici dello sport. Abbiamo educato i nostri bambini, i nostri portieri a essere uomini migliori nella vita, a mettersi nei panni dell'altro e capire che le vere difficoltà della vita sono altre e non quelle che affrontiamo tutti i giorni quotidianamente. È stata una bellissima esperienza perché per la prima volta siamo passati dall'altra parte a fare un po' gli istruttori, quindi abbiamo calciato i bambini, ci siamo un po' divertiti con loro, abbiamo vissuto quest'ambiente molto 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 bello e abbiamo fatto anche un po' vedere il nostro sport e chi siamo noi. È stato divertentissimo calciare i portieri, era da tempo che mi piaceva l'idea di poter provare a partecipare all'elemento solo dei portieri. Seconda novità di quest'anno, l'inserimento nel programma, oltre al calcio, anche di elementi di calcio a 5. Sono un portiere che viene dal futsal e stiamo cercando proprio di piano piano integrare a livello propedeutico proprio con i portierini sia piccoli che anche un pochettino più grandi per cercare di far sì che sia il calcio a 5 che il calcio siano un pochettino più comunicanti con alcuni gesti un pochettino più specifici.